Sono aumentati del 66% gli infortuni sul lavoro in Abruzzo nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato peggiore di quello del resto d'Italia, dove la crescita è stata del 48% e che attestano la nostra regione al terzo posto di questa triste classifica, superata solo da Campania e Liguria. Numeri che confermano tutte le preoccupazioni denunciate dalla CGL nei mesi scorsi, ma che paiono essere cadute nel vuoto. Sono stati complessivamente 7.628 gli infortuni nei primi 5 mesi dell'anno, 3.046 in più del 2021, di questi 2.333 in provincia di Chieti, più 56%, 1.411 all'Aquila, più 45%, 1.767 a Pescara, con una crescita del 55%. Chiude la provincia di Teramo, che con 1.208 infortuni raddoppia il dato dello scorso anno, attestandosi con un più 109% tra le province d'Italia in cui più alto è stato l'aumento percentuale degli incidenti sul lavoro. Un aumento causato in particolare da scelte organizzative volte ad affrettare i tempi di lavorazione, sia per ragioni di offerta commerciale che per corsa al bonus. Non è un caso, infatti, che se si escludono gli infortuni Covid ad essere maggiormente colpiti, sono i settori del trasporto e magazzinaggio, 749 infortuni e quello delle costruzioni, 367. A ciò si somma la sempre più elevata precarizzazione del mondo del lavoro. Ogni 10 nuovi contratti, 8 sono precari e 3 di questi di durata inferiore ad un mese. Una condizione che espone maggiormente al rischio infortuni, scarsa conoscenza della professione, formazione spesso assente e elevata ricattabilità di chi non rischia di non vedersi rinnovato il contratto nel caso denunci problemi di sicurezza sono il mix perfetto per chi aumenti il rischio di incidenti.